In Chivescia, giudice in acqua per questa edizione della Volvo Champions Cup. Come si sono comportati gli equipaggi? Bravi, bravissimi, bravissimi. Tranne una penalità data, per un'incomprensione, il resto è andato tutto bene, sono stati eccezionali. E per oggi cosa prevedi? Oggi speriamo che il vento ci accompagni e saranno ancora più bravi perché si sono spaventati per la bandiera rossa. Grazie.